signore e signori ben ritrovati nella serie della red craft abbiamo quasi finito e ancora devo chiudere qui però come potete ben vedere questa robetta come avevo detto anche nello scorso episodio deve essere fatta deve essere finita e la stiamo finendo la stiamo finendo in live e nel frattempo off camera mi sono messo a fare anche delle leggere modifiche perché non mi ricordo chi tra i commenti mi aveva detto mi allarga ancora queste siepi e ok va bene nessun problema le allargate infatti come vedete la forma è la stessa sono più larghe di uno poi devo mettere vabbè tutti i fiori tutte le robette possiamo anche effettivamente allargarci ancora di più per avere maggiore spazio però così credo sia ottima la cosa qua possiamo mettere anche delle panchine per esempio in questi punti che non ci portano da nessuna parte di qua calza tutto alla perfezione qua sto utilizzando tutta la robetta per costruire queste robe vedete qui c'è anche il segno con la light matica che ancora devo fare tutto il tettuccio e tutte quelle robette lì qua c'è il vuoto più totale però almeno adesso possiamo ammirare questa piazzetta questo chiostro così chiuso quasi 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 chiuso mi sono messo anche sempre off camera a fare un minimo di interni accendiamo la gamma override così vedete meglio per questi qui so per certo che abbiamo bisogno di mettere questa pavimentazione invece di quella bianca che troviamo sopra poi dobbiamo mettere ovviamente tutte queste cose appese a rendere il tutto molto 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 boschivo non so se si può dire in questo modo intanto andiamo a dormire e vi faccio vedere anche delle piccole modifiche che sono state fatte anzi altri interni interni sempre per modo di dire perché non sono da definire effettivamente interni ma sono dei delle piccole robette che abbiamo fatto tra un episodio e l'altro tra una live e l'altra per esempio abbiamo fatto l'interno di quest'altra torre qui e lo possiamo adesso raggiungere ricordate no quest'altra torre che si trova qui lo scorso episodio vi ho fatto vedere che avevamo fatto le scale a chiocciola che ci portavano fin lassù ecco abbiamo fatto la stessa cosa anche qui vedi il buonelle qui già vuole salire già è contento di salire abbiamo messo anche delle robette giusto per riempire questi spazi che secondo me ci sta molto bene e se sali arrivi alla testa diciamo della torre che è anche illuminata anche un minimo diciamo di soffitto con anche una bella luce infatti non so se ve ne siete accorti quando è notte queste teste sono ben illuminate sono veramente carine perché le chiamo teste vabbè ci siamo capiti questa è la ringhiera forse dovrei mettere un tappeto qui sì perché è brutto da vedere in questo modo e non so fare altrimenti cioè vorrei mettere queste come ringhiere però sapete bene che non vanno a piazzarsi ai lati si vanno a piazzare al centro ed è bruttissimo mi starete chiedendo come è fatto a tenerle così aperte senza piazzare redstone il piccone speciale il piccone speciale che abbiamo noi qui silky block state creato dal buon bis ci permette di fare queste cose magnifiche prima di portarci avanti perché adesso mi metterò a fare sicuramente questo di lavoro io volevo far vedere un'alternativa a questo albero non lo toglierò tranquilli perché è un albero che mi piace però uno di voi nei commenti mi ha detto mio so io ci vedrei più una fontana qui al centro va bene andiamola a vedere perché ne ho creata una apposta per vedere la differenza questa è la fontana che ho fatto al centro ovviamente mancano tutte le sepie tutte le robette però questa potrebbe essere potenzialmente la fontana che verrebbe al posto di quell'albero voi che cosa ne dite che cosa ne pensate tra l'altro questa di notte fa una bella luce come vedete alle android e spicca veramente un sacco che ne pensate io credo che siano due cose una più bella dell'altra sia l'albero che questa robetta qui è una fontana che già avete visto in passato l'avevo fatta nella minuto gioco a minecraft però l'ho modificata tantissimo l'ho fatta più alta più imponente l'ho fatta bianca ho piazzato tutti questi robetti qui con acqua che scende ai lati molto molto carina se la volete ve la metto su telegram tranquillamente tanto la schematica ok c'è un grosso cambiamento però prima di farvi vedere tutto quello che abbiamo fatto voglio un attimo farvi notare un'operazione che sta facendo il buon tutuia qui in questa zona dove ci sono i pillager dove andiamo a prendere i pillager che poi rinominiamo perché secondo me ha bisogno insomma di essere trattata questa cosa quest'argomento innanzitutto lui ha creato una sorta di perimetre sorta perché non è arriva fino ad una certa altezza guardate che bordello qua è dove prendevo i pillagers cioè qua c'era il pillager outpost che lui ha distrutto perché tanto comunque ci spuona lo stesso la gente intorno e sta creando una farm che ha a quanto pare creato completamente lui cioè praticamente che cosa succede con questa farm crea dei canali dove in alcuni possono essere debalestrati in modo automatico cioè praticamente scendono in questi cunicoli sparano frecce all'infinito finché non si distrugge la balestra e poi vengono raccolti da qualche parte la stessa cosa riguarda altri cunicoli che poi non so a che cosa potranno servire addirittura credo e non voglio dire cavolate può darsi che ci farà anche la farm di ride non voglio dire cavolate fatto sta che a noi interessano tantissimo i pillagers perché i sub stanno aumentando i pillagers per ora non sponano quindi me li sto segnando tutti quanti uno dietro l'altro però non li posso portare al castello questo è il macchinario credo quello che butta in automatico diciamo le tnt c'è praticamente cammina da solo butta le tnt all'infinito tramite un bug e poi si ferma lì dove c'è quella stazione là dove insomma lo blocca e lo firma questo permette di creare buchi all'infinito praticamente ah lì c'è pure una tomba probabilmente sarà morto lui malamente non so se ci sono blocchi eh sì ci sono blocchi non le vorrei prendere queste cose ci sono anche oddio cose inederite no 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 lasciamo perdere magari le veni a prendere da solo tra l'altro guardate questi buchi come sono strani oddio c'è sono proprio dei buchi dentro al muro guarda come cacchio sono strani sti cosi visti così che cosa assurda che cosa assurda torniamo di là dai che vi faccio vedere cosa abbiamo combinato che poi io di solito li portavo a mano sti villagers hanno per modo di dire nel senso che li mettevo in un cart e li facevo passare sopra questa serie di rail che arrivano fino al portale dove poi c'è quel famoso cunicolo che ho messo al centro del c'è sotto il castello che ti porta fino alla torre centrale ecco io ho sempre fatto così li ho portati uno ad uno piano piano con calma che comunque non pesava farlo è benissimo eccoci qui la struttura è questa come potete ben vedere c'è un bel tetto qui al centro a chiudere finalmente il tutto infatti guardate da qua sotto che cosa si vede c'è tutto bello chiuso acceso ok devo togliere ste robette sicuramente perché danno un sacco fastidio però come potete ben vedere finalmente questo chiostro è bello che è acceso ci sono tutte le piante da tutte le parti come potete ben vedere ho cambiato anche qualche foglia qui come vedete questa è quella della zalea dovrebbe essere sì quella anche fiorita diciamo guardate com'è strano pure il colore che cambia leggermente un pochino più sicco ci sta ci sta un botto tra l'altro fa un suono strano lo sentite non so se si riesce a sentire molto molto bello ho messo delle panche qui su cui voglio piazzare anche la sella così ti puoi anche sedere secondo me è fighissima come cosa ho messo anche questi alberelli che tra l'altro se alberelli non so se c'ho e non ce l'ho i blocchi in mano volevo farvi vedere una cosa simpatica cioè praticamente possono essere delle specie di piante infatti se ci piazzi sto coso sopra sembra una pianta però deve essere di questo colore qui questo dalla 1.17 precisa si può mettere prima non si poteva fare negli snapshot sta cosa vedete sono piazzate un po in giro anche lì tutte robe appese ne voglio mettere di più voglio mettere molte ma molte più cose per esempio altri flower pot in giro così con tipo questo cioè per rendere il tutto molto acceso carino simpatico dove ci sta molto molto bene ora che cosa voglio fare voglio portarmi avanti soprattutto qua sotto e voglio portare anche tanti altri villagers se riusciamo però principalmente mi piacerebbe insomma lavorare nel chiudere questi queste gallerie che si trovano qua sotto infatti guardate da qui quanto sono belle da vedere cioè da questo punto guarda che carino le torri sono queste sono anche molto molto carine perché sono diverse ci sono delle torri nuove un design completamente nuovo fatto da relativamente poco poi ci sono queste specie di finestre molto molto carine con anche questi ritocchini così perché come potete ben notare questa roba è una roba piatta però quando vai a mettere questi livellini che escono fuori come questo no possono dare un tocco di movimento e ci sta veramente un casino non sembra una roba completamente piatta ma ci sta ci sta ok sono riuscito a portare altri pillager meno male alla fine bisognava creare una piattaforma più in alto perché a quanto pare più in basso non spurano a cui ho lasciato sta roba così ok vabbè non fa niente comunque sì le ho portate fin qua su come al solito per questo tunnel poi con la barchetta me li sono portati fin qui meno male che con la barca non muoiono ragazzi perché quando piazzi la barca scendi di botto non muoiono e ti porti i vari amichetti il problema è uno questi stupidini vanno a finire dentro le aiule e mi dà un fastidio assurdo sto cercando di trovare un modo per non farli attraversare queste siepi ok mi dà fastidio infatti ho provato anche con questi tappeti di moss ma niente riescono comunque a saltare il bello è che la maggior parte di loro si vanno a buttare qua dentro capisci non è che dicono ok vabbè uno solo no no tutti tutti guarda questo qui quell'altro è incredibile guarda guarda pure quell'altro cioè è incredibile è fastidiosissimo ah ecco non mi piace sta cosa però come devo fare per evitare di far crescere sti cosi qua sopra cioè a me piace la pianticella così che scende piano piano aspettate un attimo dato che si è fatta anche sera approfittiamo per mettere un attimo le shaders cioè le abbiamo che facciamo ce ne priviamo oddio è tutto molto buio effettivamente perché cioè queste shaders di notte non è che ti fanno vedere chissà che cosa però ragazzi guardate che atmosfera anzi vi voglio far vedere l'atmosfera qui dentro in questo tunnel siamo riusciti a creare un design per mettere delle statue tra l'altro illuminate anche dietro il consiglio che vi do per fare delle statue belle dritte sistemate così tra l'altro grazie Nappus ancora per la casetta di nederite perché è grazie a quella se stiamo facendo tutti sti robetti qui perché costano ovviamente dicevo per metterli belli dritti usate il dispenser io non lo sapevo se tu prendi il dispenser ci metti l'armor stand dentro e poi attivi il dispenser guardate che cosa succede te lo va a piazzare preciso dritto per dritto ottimo l'unica cosa che abbiamo fatto noi per modificare un po la situazione è stata quella di togliere questo robetto qua sotto ce l'ho il blocco no praticamente se lanciamo la slab di stone si toglie la basetta sotto non è necessario possiamo anche lasciarla però sicuramente fa più effetto così ed è bellissimo tra l'altro se volete fare una roba del genere non utilizzate le armature incantate perché fanno schifo cioè sono viola oddio guarda che bel colore qui bellissimo guarda che bei riflessi a poi ho messo gli sporbloss non so se si notano le particelle ne ho messi due le ho nascosti dentro l'albero allora fa vedi se si riesce a notare uno sta qui e un altro sta più sopra sono veramente bellissimi danno un sacco di dettaglio in più sembra veramente di stare in mezzo alla natura questo fiore io lo userei nelle foreste immaginati di fare delle foreste belle fitte e di nascondere sti cosi da qualche parte cioè secondo me ti darebbe un tocco enorme al tutto comunque ho messo delle ferriate qui come vedete perché non vorrei che i pillagers che magari stanno nel corridoio vadano a buttarsi in mezzo alle aiuole detto questo signori credo di avervi fatto vedere tutto io mi metterò off camera e anche in live a portare tutti altri pillagers perché si sono salvati altri ragazzotti con questa torre che ci chiude definitivamente il castello io vi dico che per questo episodio penso che possa essere tutto ci vediamo in un prossimo episodio seguitemi su telegram seguitemi su instagram attivate la campanellina di youtube e seguitemi anche su twitch queste comunque sono le luci che abbiamo poi messo qui all'interno per fare luce nei corridoi non ve ne avevo parlato alla prossima ragazzi ciao a tutti ciao a tutti